Un determinante fattore di crescita per la Regione Basilicata. E' così che viene giudicato dai consiglieri della maggioranza Cariello, della Lega e Coviello, Fratelli d'Italia, l'accordo firmato tra Regione Basilicata e le compagnie energetiche Eni e Shell. Per Cariello l'accordo rappresenta un'ulteriore promessa mantenuta da questa amministrazione, con tantissime risorse in più per tutti i lucani. Una nuova partnership che influirà positivamente sull'economia lucana e che potrà incrementare quel processo di transizione energetica per cambiare definitivamente passo. Il consigliere Coviello mette risalto la posizione della Regione rispetto al passato, che è diversa e più autorevole. Oggi, sottolinea, è stata posta alla base per un cambio di passo nello sfruttamento delle risorse del sottosuolo, che rappresentano un asset strategico a livello nazionale con tutti gli oneri e, per onestà intellettuale, dice, tutti gli oneri che ne derivano. Il cambiamento che qualcuno, in maniera frettolosa, rimprovera di non vedere, sottolinea Coviello, è e sarà sempre più tangibile. La transizione ecologica e le opportunità dell'economia circolare sono la sfida del prossimo futuro e siamo pronti a coglierle. Grazie. 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 Grazie.